Ciao, 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 e beh, 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 a bombossa, a bombossa, a bombossa, a bombossa, il pesce palla giallo, arancione, fate voi, lancia accuse pesanti a birretta, e devo dire ha ragione, cioè birretta è proprio un fallito, un miserabile, uno scappato, è un fallito, è un corrotto, è un venduto, la cosa, la cosa stupefacente è che non se ne rende conto, capito? E uno è stato disconosciuto dalla famiglia, esatto, è stato disconosciuto dalla famiglia, guida trattori, rotti, per giunta fossero buoni, poi questo qui è amico di quell'altro là, dai, quello che fa la recensione dei rottami, pensate voi, mamma mia, mamma mia, analizziamo, analizziamo, birretta, ecco a voi, birretta, birretta, cia birretta, ma, senti una cosa, voi avete fatto poi la difesa, intanto avete accusato personaggi importanti della finanza, poi avete fatto l'offesa al geometra marchisano, ok? Volevo cogliere l'occasione, quanto pagherete di querellinias? Cioè voi avete raggiunto i mille plebei, le mille banane, e poi dopo che succede? Avrete le querellinias da pagare, falliti, vendute, corrotti! E poi abbiamo l'armadio noveante, che è quello che perlomeno verrà arrestato, verrà ingabbiato finalmente, l'armadio noveante, perché lui è il responsabile, e lui, getta la maschera, getta la maschera, il collaboratore di birretta, che poi sono tutti d'accordo con Spada di Legno.